...è una danza femminile. Si chiama Shiraghi-Choror, danza della città di Shirak, nel nord dell'Armenia. Nelle danze femminili la grazia si esprime nei movimenti delle mani. Le donne armenie sono donne molto fiere, nelle quali la dolcezza si unisce sempre alla fermezza e alla forza. Questa danza è infatti composta da due parti, una più dolce e graziata, l'altra più deciso e forte per rappresentare due caratteri delle donne armenie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.